Edicola del 18 aprile al Caffè Royal e allora la madre di tutte le partite per la stagione nel Napoli è quella di questa sera contro l'Axana una partita che potrebbe indirizzare in maniera positiva una stagione che finora, al di là della qualificazione ottenuta con ampio anticipo per la prossima Champions League non ha dato altre soddisfazioni alla squadra di Ancelotti eliminata nel giulone di qualificazione per la differenza Regi dal Liverpool che sta viaggiando verso la finale eliminata in Coppa Italia con una partita sciagurata a Milano contro l'Union e a 20 punti, 17 adesso dalla Juventus prossima sicura vincitrice dello Scudetto ma fresca di eliminazione in Champions League una partita quella di questa sera che dovrà dare inferiori indicazioni ad Ancelotti soprattutto sulla personalità di questa squadra ribadisco un concetto già più volte detto Ancelotti ha sopravvalutato le capacità di questa rosa non tanto da un punto di vista tecnico quanto dal punto di vista della personalità una squadra che è sempre a metà del guado tra il diventare una grande d'Europa e una squadra che ancora vive di timori, di ansie e di paure proprio per la mancanza di un trascinatore in campo Ancelotti forse riteneva di poter essere lui con la sua serafica calma e con la sua esperienza a far cambiare i numeri anche di questa squadra direi che non ci è riuscito e stasera c'è la prova del nome una partita difficile nella quale il Napoli deve recuperare due eletti e nella quale partita ci sarà e c'è già tanta pretattica da parte dei due tecnici per le formazioni da mandare in campo come giocherà Larsen? ad una punta, due punte attaccherà pressando alto oppure preferirà aspettare e fare pressing nella propria tre quarti di campo per poi ripartire con la velocità di Aubameyang e Lacazette o due trequartisti come Ozil, Yuobi o Vichitarian alle spalle di un'unica punta le domande sono tante una certezza è che il Napoli deve osare avendo il coraggio di farlo e soprattutto di farlo senza rischiare un obiettivo decisivo è il fatto di blindare la porta di Mereda non prendere gol potrebbe significare qualificazione qualora Mereda, Smilic e Insigne riuscissero ad inventarsi qualche cosa una partita ripeto difficile una partita che stranamente vi parliamo in mattinata prima della gara non ha ancora il soldato e questo è un altro interrogativo che deve porsi la società non tanto Ancelotti o la squadra il fatto che dei tifosi ne cuse segnatamente abbiano fatto dei manifesti, degli striscioni dicendo pretendiamo la Coppa Oema non è una contestazione alla squadra non è una contestazione ad Ancelotti è la contestazione ad un presidente che da 5 stagioni e ne parleremo successivamente non fa compiere il salto definitivo di qualità a questa squadra speriamo che ci riesca Ancelotti soprattutto se stasera le stelle del San Paolo e San Paolo e San Gennaro con l'aiuto dei tifosi riusciranno a compiere l'ennesimo piccolo grande miracolo forza ragazzi provate